Berlusconi ha detto che Casini fuori dal Partito delle Libertà rischia di fare il gioco della sinistra sottraendo voti alla coalizione, è d'accordo? Governa chi arriva primo alla Camera a livello nazionale e chi arriva primo al Senato regione per regione. Il Popolo delle Libertà con Berlusconi e Fini è favorito, può invertire la rotta rispetto al governo Prodi, tasse, attacco alla famiglia, minore sicurezza, troppi clandestini, chi in un'area moderata di centro-destra sottrae voti al Popolo delle Libertà fa il gioco della sinistra, questa quindi è l'interpretazione, la spiegazione di questa frase, Casini di fatto disperde voti, non vincerà da nessuna parte, sarà soltanto un tralcio e un ostacolo e quindi sottraendo voti al Popolo delle Libertà per darle a Casini in realtà è come se si votasse per Veltroni e tutti quelli che stanno con lui, quindi non disperdere voti è essenziale per far sì che il Popolo delle Libertà vinca e governi. Per lei si prospetta un ruolo da capogruppo al Senato del Partito delle Libertà, addio quindi al Ministero delle Comunicazioni, chi potrebbe essere il suo successore? Nessuno, perché il Ministero delle Comunicazioni è stato soppresso, la legge finanziaria ha accorpato i ministeri, sono previsti e non altereremo quella norma, soltanto 12 ministri con portafoglio, le comunicazioni rientreranno in una più generale articolazione delle attività produttive, quindi non ci sarà il Ministero delle Comunicazioni, noi non vogliamo moltiplicare Veltroni e ne vogliamo semmai ridurre. Nei giorni scorsi, fino ai Berlusconi, mi hanno chiesto di candidarmi al Senato e di assumere la guida di un gruppo parlamentare che si annuncia di dimensioni molto vaste, 130-140 parlamentari, anche di più. Il Senato sarà il luogo di confronto più acceso certamente e quindi ho ritenuto un grande onore questo ruolo politico che dovrei assumere a nome di tutto il Popolo delle Libertà, a dimostrazione che coloro che come me sono esponenti di N, non sono degli aggregati in una fusione nell'ambito di Forza Italia, ma nasce un nuovo soggetto al cui vertice possono esserci esponenti che provengano sia da Forza Italia che di Alleanza Nazionale, quindi un modo visibile del quale ringrazio i leader della nostra coalizione per dimostrare che la destra c'è e che i suoi esponenti faranno parte di un gruppo dirigente che vedrà di volta in volta la valorizzazione delle energie ritenute più adatte allo scopo. L'Unione Europea aveva formulato tempo fa alcune riserve sulla legge che porta il suo nome, la legge Gasparri. Se doveste vincere le elezioni, in quali termini ci sono possibilità di modificarla? A mio avviso intanto è fallito il tentativo di superare la legge Gasparri con una proposta di legge del governo Prodi che come dissi nel giorno sulle agenzie si possono fare le verifiche col calendario che fu presentata e in molti altri casi non sarebbe andata da nessuna parte. Quella legge è rimasta una proposta di legge. La legge Gasparri resta in vigore, resta valida, va corretta nel punto delle frequenze perché la Unione Europea ha fatto un'osservazione solo su quel punto per rendere ancora più aperto l'accesso al mercato delle frequenze. Presenteremo, lo farò io stesso in Parlamento, in Senato, un emendamento per correggere solo in quel punto la legge Gasparri che va attuata perché c'è la parte di privatizzazione della RAI che è rimasta sulla carta, noi dobbiamo nel salvaguardare una parte di servizio pubblico mettere sul mercato un pezzo di RAI, quindi difendere la legge Gasparri, una piccola modifica in sintonia con l'Europa e soprattutto attuarla con una privatizzazione parziale e progressiva della RAI. Resta convinto della necessità di privatizzare la RAI? Credo che su questo punto, come dicevo poc'anzi, ci sia proprio una necessità di aprire di più il mercato. Il servizio pubblico è importante ma ha bisogno di tre reti in chiaro nell'analogico, quelli che tutti riceviamo nelle case e poi è sul satellite e poi è sul digitale terrestre e ci sono tantissime reti di cui dispone la RAI. La radio ha tantissime reti, noi riteniamo che il servizio pubblico sia importante ma che si possa concentrare in un numero minore di reti per offrire maggiore qualità a quei servizi del territorio, pensiamo all'informazione regionale, ma che possa tranquillamente essere ceduta una rete per abbattere i costi, non diminuire l'occupazione che anzi potrebbe incrementare con la valorizzazione di alcuni pezzi di RAI. Peraltro mi auguro che si completi rapidamente il passaggio al digitale terrestre che con la moltiplicazione dei canali renderà molto più aperto e plurale il mercato, quindi resto convinto che si possa fare un'operazione parziale e progressiva che è nell'interesse dei cittadini e fa diminuire il potere, l'invadenza, l'arroganza dei partiti che nasce dal fatto che essendo la RAI al 100% pubblica, i partiti se ne considerano i padroni e questo non sempre fa bene alla RAI. Cambierete la par condicio? Oggi vedere in televisione che ci sono 15 candidati alla presidenza del Consiglio e tutti devono avere lo stesso spazio dimostra quanto quella legge sia assurda, se io avessi fondato un partito avrei avuto lo stesso spazio di Berlusconi e di Veltroni, vediamo candidati che non hanno nemmeno la possibilità di superare il quorum, che non saranno eletti nemmeno loro nel Parlamento. La legge va modificata per garantire nel rispetto del pluralismo e della libertà un sistema realistico. Anni fa c'era il Partito Umanista, ebbe alle elezioni regionali lo stesso spazio dell'allora Polo e dell'allora Olivo, il Partito Umanista non prese nemmeno un consigliere regionale, oggi molti di quelli che vediamo in questi giorni passare in televisione non saranno eletti nemmeno loro deputati o senatori, è un po' assurdo, noi abbiamo fatto uno sforzo facendo nascere il popolo delle libertà per avere in Italia finalmente un vero bipolarismo con due grandi movimenti politici, come in Francia, come in Spagna, come negli Stati Uniti, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo con le elezioni in corso in questi paesi. Una par condicio che dà agli sconosciuti lo stesso spazio dei grandi partiti che si contendono nel governo è una legge che mortifica la politica. In autunno si scioglierà l'Alleanza Nazionale, ha nostalgie o rimpianti? Io non ho nostalgie, non dobbiamo sciogliere l'Alleanza Nazionale, abbiamo preso un impegno di affidare agli elettori il giudizio su questa proposta politica, il popolo delle libertà. Se il popolo delle libertà sarà accolto da un successo elettorale, come tutto ci fa prevedere, proseguiremo nella nascita di un vero e proprio soggetto politico. È ovvio che ci verranno dei congressi e quindi Fini ha correttamente annunciato che noi chiameremo il popolo di Alleanza Nazionale a esprimersi con un libero e democratico congresso, lo farà immagino anche Forza Italia. A quel punto da congressi, come nacque l'Alleanza Nazionale, da un congresso prima dell'MSE e poi di nascita di Alleanza Nazionale, potrà nascere in un libero e grande congresso un nuovo soggetto politico, il popolo della libertà, che però ha bisogno in primo luogo il 13 e 14 aprile di questo battesimo elettorale popolare con un ampio consenso. Non ha nostalgie perché far nascere un grande, forte soggetto politico che governa il paese, in cui i grandi valori della nazione, della famiglia, dell'identità cattolica, i valori sani della destra sono vivi, attivi e incisivi e protagonisti, credo che sarà un grande successo, sarà un momento di gioia quando ci arriveremo, non un momento di nostalgia. Lei è già pronto per la nuova parodia di Neri Marco Re? Credo che essere imitati sia un sintomo di successo, conosco colleghi politici che pagherebbero per farsi imitare, quindi avere una personalità con pregi e difetti, evidentemente, come tutti dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere per i difetti e speranza di averne se ce ne sono pregi. Essere imitati è una forma di notorietà, di propaganda e credo che sia sempre stata una imitazione che ho apprezzato e gradito perché coglie degli aspetti caricaturali che in tutti possono essere forzati e individuati, ma è molto simpatica. Molte volte quando facciamo le riunioni di staff con i miei collaboratori, alcuni le vorrebbero video riprendere per passarle a Neri Marco Re perché spesso le battute, le cose che si dicono in un contesto di lavoro tra amici perché i collaboratori sono anche degli amici personali, sono simpatici, io sono abbastanza allegro e spiritoso e quindi se Marco Re potesse avere a disposizione qualcuno di questi filmati, non vorrei che qualche mio collaboratore col telefonino, oramai ci si può riprendere con qualsiasi mezzo, sia un collaboratore occulto di Neri Marco Re, che però ringrazio per il contributo alla mia conoscenza ulteriore.